Io te lo dico, quando troverò il mio primo umano sicuramente mi faranno entrare nella guardia reale. Intendi quella cosa di fronte a noi? Mio dio, un umano! Presto Sans, fai partire il puzzle! Quella cosa sembra un infante. Chi se ne frega? Ti rendi conto che stai per picchiare un minore? Papyrus si prepara a lanciare un attacco normale. Fammi provare la balena. Dove diamine l'hai trovato una balena? In una balera. Forse lui lei può schivare una balena, ma non mi levi la ossa! E fermati! Come cavolo va a schivarli? Aaaaaaaaah! Uuuuuuuu! 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 Uuuu! 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 Uuuu!